Ha già anche di fatto anticipato quelli che sono stati i contenuti della riforma, dato che erano indicati anche nella famosa lettera della BCE. Le chiederei di spiegarci perché quegli interventi sul sistema pensionistico erano necessari non solamente a causa della situazione economica e politica contingente, ma anche in ottica futura. Chi ha seguito l'incontro del mese scorso col professor Puglisi ricorderà che abbiamo spiegato la differenza tra un sistema pensionistico e capitalizzazione e una ripartizione e che l'invecchiamento della popolazione crea grossi problemi per sistemi pensionistici e ripartizione. Le chiederei di ribadirci il concetto e quindi spiegarci perché era necessaria una riforma di quel tipo, ripeto, indipendentemente dal contesto di emergenza. Ok, prima abbiamo spiegato il contesto di emergenza, però le ragioni sottostanti per fare la riforma pensionistica c'erano già tutte e queste ragioni possono essere individuate sostanzialmente da un lato nella dinamica demografica. Il paese invecchia, il numero di persone anziane rispetto alla popolazione in età lavorativa aumenta. Questo si chiama il tasso di dipendenza degli anziani, vuol dire quanti anziani hai rispetto alla popolazione lavorativa. Allora noi eravamo sul 34%, nel 2050 la nostra stima, la proiezione è qualcosa che supera il 70%, quindi un invecchiamento è molto rapido. Adesso la pandemia ha dato un'interruzione, però i demografi pensano che questa sia una interruzione che poi il percorso viene ripreso nello stesso modo. Quindi riprendiamo allora il concetto di un sistema previdenziale, perché un sistema previdenziale va compreso che è un contratto tra generazioni. E quindi se lo posso dire nella riforma di un sistema pensionistico c'è un alleggerimento del debito messo a carico, dell'onere messo a carico delle generazioni future. Questo è il punto. Perché? Perché il nostro sistema funziona, quasi tutti in Europa, funziona in questo modo. Ci sono le classi di età attive. Diciamo le persone che vanno, possiamo dire, la statistica dice dai 16 anni, ma noi possiamo anche dire 18, adesso non ha molta importanza. L'età lavorativa dai 18 ai 65 anni. Queste sono le persone in età lavorativa. Poi ci sono le persone che hanno 65 anni e più, che sono le persone al di fuori del mondo del lavoro. Ed è chiaro che quello che si produce in un anno, che genera reddito, deve servire a mantenere tutte le persone che lavorano. Tutti i bambini, che ovviamente, quelli meno di 18, 16 anni, quelli che non sono in età di lavoro e anche tutta la parte anziana che di nuovo è fuori. Ora qui va mantenuto un equilibrio e se il numero degli anziani rispetto al numero delle persone che possono lavorare aumenta, vuol dire una sola cosa, che o si aumenta la contribuzione, quindi quello che noi paghiamo di contributi dei coloro che lavorano, oppure si riduce la pensione degli altri, perché se questo numero aumenta, tu o aumenti e dici ai lavoratori guardate dovete pagare un po' di più perché il numero dei pensionati aumenta. Oppure dici signori io vi devo ridurre un po' le pensioni perché abbiamo problemi ad aumentare l'aliquota contributiva. Questo è un dato matematico, non ci piove su questo, l'equilibrio va cercato. Adesso io vi faccio la domanda, si può pensare che le nostre aliquote contributive che fanno parte del costo del lavoro sia chiaro? Si può pensare che oggi sono 33 e possano andare a 40, 45 per cento? No, perché se no noi smettiamo di produrre per l'estero perché non riusciamo più a piazzare niente, chiedetelo agli imprenditori. E quindi noi abbiamo, quando abbiamo un incremento delle persone in età di pensionamento, abbiamo pensioni calcolate in maniera abbastanza generosa, per pareggiare questa spesa dovremmo aumentare l'aliquota contributiva oppure avere un aumento di giovani. E ma noi non ce l'abbiamo perché la nostra popolazione sta invecchiando che vuol dire che gli anziani aumentano, il percentuale i giovani si riducono. Poi metteteci anche un altro problema che noi abbiamo. Prima ho parlato di popolazione in età lavorativa. Verissimo. Ma se queste persone in età lavorativa non lavorano, perché per esempio sono donne e non partecipano al mercato del lavoro, oppure perché sono disoccupati, oppure perché anziché scegliere 65, abbiamo detto ma no, 57 va bene, fuori. Quindi tu da 57 anni le porti fuori del mercato del lavoro, oppure perché sono giovani che hanno soltanto occupazioni precarie, la base su cui si possono calcolare i contributi si restringe. Perché? E voi pensate una cosa, che è un dato su cui si pensa troppo poco. Il nostro tasso di occupazione, cioè il numero di persone in età di lavoro che effettivamente sono occupate, dovrebbe essere del 70%, avremmo già dovuto raggiungerlo. Noi eravamo il 56% in pre-pandemia. 56% in pre-pandemia. Vuol dire che poco più di metà della popolazione in età lavorativa ha effettivamente un lavoro. Qui c'è un problema di occupazione femminile grande come una casa, che speriamo poi, come dire, di risolvere anche con il recovery plan. Però questo è un dato di fatto. Quindi abbiamo un rapporto demografico che tende a peggiorare gli equilibri perché aumenta il numero di coloro che sono in pensione rispetto a quelli che sono in età lavorativa. Questo è l'elemento demografico. Poi abbiamo invece un elemento economico che è che se l'economia non funziona bene il numero di persone che potrebbero, dovrebbero lavorare ma non lavorano e non pagano contributi e quindi come si pagano le pensioni. Per di più ci possiamo mettere un terzo elemento che è un elemento, chiamiamolo se vogliamo, politico, squisitamente politico, che ai politici piace fare bella figura con i contribuenti. Quindi un politico non sogna altro che di fare una riforma pensionistica in cui dice vi mando tutti in pensione a 57 anni perché questo è molto popolare. Però questo nessuno mai si domanda quanto costa e soprattutto chi paga. Il problema è che sono esattamente i giovani perché per come funziona il sistema i giovani pagano e quello che entra serve per pagare le pensioni dei pensionati attuali e se mancano soldi in qualche modo si fa debito, però il debito poi lo pagano i giovani. E questo è il problema che c'era allora. Allora è ovvio che una delle modalità che tutti i paesi seguono per ridurre il numero degli anziani a carico è di portare avanti l'età di pensionamento perché tu dici no mi dispiace ma non esci più a 57, esci a 60, poi non esci più a 60, esci a 62, 65 e il punto è che questo è richiesto perché la vita si allunga. Io non ho adesso la presentazione ma se voi consideraste quella che si chiama la piramide demografica, la piramide demografica era fatta a piramide negli anni 70, molte generazioni numerose alla base dove ci sono le classi di età più giovani e poi la piramide si restringe perché alla fine le persone muoiono e quindi in su verso gli 80-85 negli anni 70 c'erano poche persone. Oggi la piramide è fatta quasi così, cioè sotto alla base si è invertita, si è quasi capovolta, alla base ci sono poche persone. Noi abbiamo, l'Istat ha pubblicato i dati in questi giorni, abbiamo un grande problema di natalità. Allora non vogliamo gli immigrati, non facciamo più figli e questo poi chi le paga le pensioni? Ditemi chi le paga. Anche se mettiamo una tassa sui patrimoni, i patrimoni ci sono oggi, se le tassi domani valgono meno e quindi per carità si possono fare tante cose, ma le pensioni, questa è la cosa che io voglio sempre dire, le pensioni sono intimamente legate al lavoro e quindi se funziona bene il mondo del lavoro, le pensioni non sono un problema. E quando la base produttiva si restringe, il numero dei disoccupati aumenta, il numero di coloro che ne studiano, ne lavorano aumenta, il numero di giovani sfiduciati dal paese e magari sono molto preparati, decidono di andare all'estero aumenta. Noi negli ultimi 15 anni abbiamo avuto più di 2 milioni e mezzo di giovani che sono andati via dal paese. Questa è una perdita grandissima. Allora, se vogliamo parlare di sostenibilità, che è una cosa oggi molto in voga sui temi ambientali, ma meno in voga per esempio sui temi pensionistici, noi dobbiamo pensare al sistema delle pensioni come una casa comune e domandarci, regge questa casa comune? Perché adesso deve pagare le pensioni a noi, al sindaco non ancora, a me sì, ma deve pagare le pensioni a noi. Però tra 10, 15, 20 anni dovrà pagare le pensioni di quelli che sono più giovani e tra 40 dovrà pagare le pensioni di quelli che entrano adesso nel mercato del lavoro. Ma se noi riduciamo sempre la base di lavoro, è chi le paga quelle pensioni? Quindi lo stato di privazione in cui abbiamo costretto i giovani dipende dal fatto di aver fatto delle politiche, magari anche per ragioni per carità buone, non voglio dire che tutto sia stato fatto per mero e bieco calcolo elettorale, in qualche caso sì, ma anche per buone ragioni. Quando sono state date le baby pensioni, i parlamentari che hanno fatto la proposta dicevano lasciamo che le donne tornino in famiglia, quindi voleva proprio dire il contrario di ciò che serve per rendere un sistema pensionistico robusto, perché per avere un sistema pensionistico robusto bisogna che ci siano molte persone che lavorano, che pagano i contributi, quindi non lavorano in nero e così via. E se voi dite lasciamo che tornino a casa, quando hanno 35 anni, hanno lavorato 15 anni, 14 anni, 6 mesi, questo vuol dire darsi veramente la zappa sui piedi e minare alla base la sostenibilità del sistema. Quindi quello che abbiamo fatto rispondeva a esigenze, certo se avessimo fatto, ma domandatevi perché non sono state fatte prima, perché non c'era la volontà politica, perché se la riforma fosse stata fatta prima, forse non arrivavamo neanche a quel problema di emergenza finanziaria di cui ho parlato prima. E quindi ci sono, certo che se uno deve prendere un provvedimento che non piace agli occhi della gente, quello è il male assoluto, ma magari bisognerebbe domandarsi, ma se avessero preso qualche provvedimento prima, invece di lasciare che la situazione degenerasse, come quando tu genitore vedi che un figlio, vedi che ci sono dei problemi, vedi ma fai finta di niente, giri gli occhi dall'altra parte e poi magari vedi che non so, è bocciato o anche in situazioni peggiori, allora ti domandi, ma come mai non ho agito prima? Come mai non sono stato sufficientemente saggio da indurre, da parlargli, da indurre, no, facciamo queste cose che non ce le possiamo più permetterle altre? E questo è il senso della politica, la politica è assunzione di responsabilità, vero sindaco? Sì, sì, è vero, è molto vero, le responsabilità di noi sindaci sono grandi e ce le prendiamo, quindi bisogna proprio prenderci le responsabilità e penso che lei se le prese. A questo non c'è dubbio. Grazie. Grazie.